Questo è il villaggio di neve costruito dagli alpini della divisione cuneense in occasione delle gare di sci interregimentali delle truppe alpine, 8 marzo 1936, progettista e direttore dei lavori il maggiore Bruzzone Alarico, del secondo alpini, lavoratori cento alpini impiegati del primo e secondo reggimento, tempo impiegato un mese. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.